Un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, oggi vi raccontiamo le 10 cose da sapere di iPhone XR. iPhone XR è la strada che Apple sceglie per portare l'esperienza di iPhone XS e XS Max ad un maggior numero di persone, strada che prevede l'impiego di materiali meno pregiati ma comunque di alta qualità, a partire dall'alluminio colorato per la costruzione dello chassis. iPhone XR è certificato IP67, ovvero può resistere ad una profondità massima di un metro per 30 minuti. Per iPhone XS la resistenza è fino a 2 metri. La differenza più significativa tra iPhone XR e due fratelli maggiori è il display. Invece di un pannello OLED troviamo la collaudata tecnologia LCD con un pannello di altissima qualità. Apple è riuscita a mantenere le cornici quanto più sottili possibili, impresa abbastanza complicata con un pannello di questo tipo. La risoluzione è di 1792 per 828 pixel con una densità di 326 pixel per pollice. iPhone XR è privo di 3D touch. Questo vuol dire che non è più possibile aprire menu contestuali o accedere alle scorciatoie delle app toccando lo schermo applicandovi una pressione più o meno intensa. Apple ha cercato comunque di conservare un'esperienza d'uso simile almeno nel control center e all'interno di alcune app, dove basterà prolungare il tocco del dito sul display senza la necessità di esercitare una pressione maggiore. Sotto la scocca c'è lo stesso processore Apple A12 Bionic che si trova su iPhone XS e iPhone XS Max e garantisce lo stesso elevatissimo livello prestazionale dei fratelli maggiori. Parliamo del 20% in più lato CPU e fino al 50% in più lato GPU rispetto al predecessore Apple A11. Rispetto ad iPhone XS e XS Max, iPhone XR ha una sola fotocamera posteriore, quella con focale grandangolare equivalente da 28 mm. Il sensore è però lo stesso da 12 megapixel degli altri modelli lanciati quest'anno e nonostante il singolo obiettivo è comunque possibile scattare fotografie in modalità ritratto con la possibilità di controllare la profondità di campo in un momento successivo allo scatto. I risultati sono molto convincenti e l'effetto funziona piuttosto bene. Anche iPhone XR integra il sistema di sensori e fotocamera anteriori TrueDef con supporto al sistema di riconoscimento Face ID e quindi sì anche iPhone XR ha la cosiddetta notch. Come fratelli maggiori anche il nuovo iPhone XR supporterà la doppia sim, uno in formato fisico, l'altra virtuale grazie alla tecnologia Embedded Sim. Parliamo al futuro perché il supporto effettivo arriverà solo nel corso delle prossime settimane ancora senza una data precisa. Poco più grande di iPhone XS e poco più piccolo di iPhone XS Max. Le dimensioni di iPhone XR sono a metà strada tra i due modelli, risultando probabilmente nel miglior compromesso possibile tra usabilità e ingombri. iPhone XR è proposto in sei differenti colori. Oltre alle ordinarie livree bianca e nera troviamo le colorazioni blu, gialla e corallo e la versione Product Red. Il prezzo è uguale per tutte le colorazioni. E a proposito di prezzo, si parte da 889 euro per la versione con 64 gigabyte di spazio, per arrivare ai 1059 euro se si desiderano 256 gigabyte. Il prezzo di partenza è il 35% in meno rispetto ad iPhone XS e tutto sommato l'esperienza d'uso non è poi così diversa.